Giuri Cicci, a puntare uno sguardo in area, ecco il cross, Acerbi mette fuori, Correa la fa passare, può partire, va il Tuku, resiste all'idea del fallo, Verre che è già monito, Correa, arriva anche Lukaku, va da solo, Correa! Correa, 3-0 Inter, dopo un periodo molto, molto difficile, vede la luce, Joaquin Correa, con il gol alla sua ex squadra, 3-0, lo ha fatto discretamente bello, il Tuku. Bravissimo qui, a far passare il pallone, Verre ha monito, quindi non può intervenire, Lukaku da una parte, Correa allora vede aprirsi lo spazio, calcia benissimo per il 3-0. Terzo gol in campionato, Joaquin Correa! Grazie a tutti! Grazie a tutti!